Oh, ciao! Io sono Scott! Io sono la bambola di Squid Game! Piace di conoscerti! Ecco il tuo testo! Oh, grazie! Test finale! Ho finito! Oh mio! Com'è bella! Darò una lezione a questo tipetto qua! Il tempo è scaduto! Dammi il tuo test! Oh, sì! Che diavolo? Questo non è il mio test! Non mi interessa! Aspetti! Ti prenderò! Prof! Ora basta! Prof, non è il mio test! Ops! Alla barra per trazione! Il prossimo! Sei pronta? Mi hai battuta! Prendi il lecca lecca! Ciao! Il prossimo! Sarà troppo facile! � per favore! Oh! Oh! Oh, oh! Oh oh! Ha ho fatto! Sto vincendo! Sei sicuro? La mia mano! I perdenti vanno alla barra per trazione. Il prossimo. Posso sentire i miei muscoli che crescono. Ti tengo io, Scott. Ok, ragazzi, dimostrerò come sparare raggiatele. Listo? Ora prova tu. Ce la posso fare? Puoi farcela, Scott? No! No! Non mollare, Scott. Ballo. Proverò con la sinistra. Vedi cosa ho fatto? Bravo, Scott. Bene. Andiamo. Scusa, sono in ritardo. Sei in ritardo per il test. Oh, no. Puoi copiare dal mio. Sam. Troppo finito! Hmm... Mmm, va bene. Sì! Ah, grazie, Scott. Nessun problema! Lo scherzo è fatto, bambolina! Bambola, vieni a risolvere, su! Wow! Oh, no! Ops! Non preoccuparti, ti aiuterò io! Oh, no! Le mie scarpe! Si stanno sciogliendo! Oh, bei calzini! Cosa? A che piaccio! Ok. Voglio leggere questo! Andiamo! Wow! E anche questo! Ehi! Quello era il mio libro! Ah, grazie! Ecco, leggi il prossimo! Grazie! Perché sono così rumorosi? Oh, cavolo! Ricordi? Sì, ricordi! Ah, questo per voi, ragazzi! Wow! La 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 la! Ah, li sistemerò! Oh! Oh! Dove sono tutti? Wow! La biblioteca è tutta per me! Libri! Amo i libri! Voglio vedere quando ti ci siederai! Oh! Che bella giornata! Oh no! È il mio sedere! Oh! Ottimo lavoro! Oh sì! Pizza! Oh! È il mio! Voglio tutta la pizza! Niente più pizza! Ha preso tutta la pizza! Oh! Ho così tanta fame! Buona! Fermati! Ridammi la pizza! Wow! Ah! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Grazie! Nessun problema! Ciao! Questo è il mio esperimento scientifico! Quattro! Upsi! Oh! Accidenti! Ciao! E questo è il mio esperimento scientifico! Facciamo casino! Facciamo casino! Sei scortese! Upsi! Vedete? I miei capelli stanno volando! Questo è buono! Ho paura nel buio! Togliti! Togliti! Non ridete di me! Mi piaci! Ho qualcosa per te! Ehi! Il pavimento è lava! Scappate! Correte tutti! Togliti! Togliti! Oh no! Oh no! Ti ho preso, Scott! Grazie! Sto blocciando! Ehi! Che stai facendo? Non è davvero lava! Sì? Ti figura! Su? Che stai facendo? Che stai facendo? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Sì, potrebbe funzionare! Sì! Quello è il guanto dell'infinito! Mi serve! Ho qualcosa per te! Per me? Finalmente ho il potere! Dunque, quale supereroe sei? Sono Spider-Man! Più, più, più! Perché non funziona? Ok! Mi dispiace tanto! Mi ha fatto lo scherzo! Wow! Sei davvero l'uomo ragno! Chi è quella ragazza? Eh, sì! Può essere la mia ragazza! Mi ignora! Di nuovo! Che strano sogno! Che strano sogno! Fatto! Ora posso riposarmi! ha la mia ragazza! Ti fa la mia ragazza! La mia ragazza! Até l'uomo ragazza! Il fuoco! Ecco la mia ragazza! Eccola! Grazie! Eccola! Grazie! Oh, eccolo! Oh, sì, mi ha notata! Grazie! Era per lei! Ciao! Questo è per me! Oh, non avrò mai una ragazza! Buona fortuna con i test e ricordate, non barate! Non mi becchiava mai! No! Hai mie caramelle? Ehi, hai le risposte? Oh, com'è possibile? Mi piaci! Glielo dirò! Ehi! Cambiamo i miei oti! Duecento punti per me! Non puoi farlo! Cosa sta succedendo? Niente a bruciarti dalla mia aula! Oh, no! Non preoccuparti, ti salverò io! Oh, grazie! Ma come ha fatto? Grazie! Alla prossima